ecco ragazzi dato l'esperienza che ho avuto su desi il gioco di sopravvivenza zombie dove si trovano lattine coltelli ma ovviamente gli apri scatole erano rarie da trovare quando gli apri scatole eravate il 99 per cento di carne di contenuto della scatoletta in questo momento noi abbiamo trovato su un coltello che ci dice che dobbiamo adattare l'attenzione ecco il metodo come aprire una scatoletta in desi non fate la casa se non siete esperti che può essere molto piccolo però io con la mia esperienza su desi il gioco di sopravvivenza zombie un gioco destinato da una mod di arma 2 sono riuscito a capire come si apre su desi una scatoletta quindi in caso di sugo o cosa del genere siamo pronti anche noi ecco il signore poi con un po di attenzione si può usare il coperchietto come sapete taglia da muovere il signore in cucina con tra i comazzoni no